Solo stamattina abbiamo appreso dalla stampa che l'imputazione di omicidio è caduta, non ne siamo certi perché è stato solo appreso dalla stampa. Io voglio giustizia, chi deve pagare paga perché è omicidio, loro hanno visto e non hanno fatto niente, mia sorella non c'è più e non tornerà più. Noi chiediamo anche l'estradizione di questi due personaggi perché loro debbano scontare la pena, non che solo noi dobbiamo vivere il nostro ergastolo perché se la pena nostra non ha mai fine anche la loro non deve avere mai fine. Io voglio che sia fatta vera giustizia perché loro l'hanno portata alla morte, non l'hanno soccorsa. Avvocato, le novità apprese nelle ultime ore potrebbero cambiare il capo di imputazione per questi due giovani romeni? Una notizia che era del tutto inaspettata. Assolutamente, ci lascia sgomenti, butta ancora nella disperazione la famiglia sapere che in due anni si è proceduto per una ipotesi di reato di omicidio e a distanza di poche ore sappiamo, chiaramente notizie da tutto da verificare, che è caduta o meno l'ossatura più importante del capo di imputazione, cioè l'ipotesi dell'omicidio volontario. Però nelle ultime ore c'era stata anche un'importante presa di posizione della presidenza del Consiglio dei Ministri su questa vicenda? Sì, infatti in questa altaliena di emozioni la famiglia era rincuorata dalla notizia che la presidenza del Consiglio dei Ministri si era interessato anche grazie all'onorevole Rizzetto che aveva depositato un'interpellanza parlamentare dal sottoscritto che si era attivato con i vertici ministeriali. Voi vi sentite un po' abbandonati come familiari delle vittime? Si parla tanto di garante dei detenuti, però anche voi chiedereste un garante o comunque qualcuno che sia dalla parte delle vittime e dei familiari delle vittime? Certo, giorni fa ho letto proprio una notizia di un politico radicale che sta facendo lo sciopero dalla fame. Perché vuole il garante per i detenuti? E noi? Siamo abbandonati da tutti? Noi abbiamo perso una sorella, una figlia. Il nostro dolore? Poi che fa lui? Li reintegra e se li porta a casa? Quindi faremo pure noi lo sciopero della fame. Tutto qui. Queste notizie sono sconvolgenti. Sono sconvolgenti.